benvenuti inizia un format nuovo che per me è pressoché rilassante ma allo stesso tempo emozionante decidante benvenuti infatti nel salotto del dr beska il salotto del dr beska è un nuovo format creato appositamente sui vari piattaforme social dove dr beska spiegherà direttamente a voi le problematiche essenziali della nutrizione stessa allo stesso modo ma anche alcune curiosità applicate all'ambito nutrizionale dietetico medico e anche perché no sfoceremo anche nella farmacologia insomma parleremo di tutto e anche di un po nel primo video di oggi cioè nel inizio e il saluto del salotto del dr beska ecco è assolutamente un video prettamente rilassante nella spiegazione questo perché come potete vedere sono completamente seduto nel mio salotto non sono ad arcore ma sono a codonio dove abito io parleremo della dipendenza da cibo cos'è che comporta a una persona stessa ad essere dipendente da quello che mangia e quindi come se fosse letteralmente una dipendenza da droga da sostanza può davvero il cibo dare dipendenza e portare quella persona a isolarsi dagli altri oppure portare quella persona a proprio non uscire di casa nel vero senso stretto della parola oppure a dover uscire di casa solo per mangiare sembrerà assurdo ma tutt'oggi la dipendenza da cibo è riconosciuta come una vera e propria malattia spesso non vista al 100 per cento spesso si considera la dipendenza da cibo come abbuffate continue individui bulimici oppure binge eating eating disorder o tutte quelle problematiche che stanno alla base anche dell'introduzione di piccoli abbuffate quindi piccoli pezzi di cibo in più ore o in più parti della giornata per esempio ma anche nell'abuso di alcol a piccole dosi ma somministrate per lungo tempo esistono però degli individui e qui c'è ragazzeremo tantissimo alle neuroscienze e alla psico neurofarmacologia che nella loro vita quotidiana devono continuamente mangiare oppure hanno dei periodi stretti di tempo delle ore dei minuti o che possono anche essere in questo caso periodi fissi di questi ultimi che devono continuamente mangiare la loro contentezza difatti quindi abbiamo un ricircolo pazzesco della dopamina e della serotonina a livello cerebrale è nel continuare a mangiare abbuffarsi questi individui a differenza dei bulimici difatti sono individui obesi fortemente sovrappeso anche perché spesso questi ultimi continuano a mangiare senza avere poi un deficit calorico che viene legato a una consumazione di questi ultimi abbinato a un'estrenua attività fisica questi individui spesso sono individui che si isolano nel contesto sociale non è un caso di fatti che possano anche essere accumulatori seriali quindi di altri oggetti ma la loro la loro possiamo dire compartimento imprinting vitale risulta essere quello di nutrirsi in continuazione se visto da studi clinici fatti che spesso possono anche essere nell'ambito psichiatrico individui schizofrenici che non riescono a controllare la loro assunzione che spesso viene anche poi messa a lato con l'assunzione di nicotina alcol e sostanze superfacenti cibi prettamente grassi cibi grassi quindi cibi ricchi di zuccheri cibi che vanno ad alterare quindi in questo caso anche poi il senso della sazietà e il senso quindi che sia anche del gusto stesso i cibi ricercati sono però più visti anche a livello psichiatrico come delle vere e proprie leccornie e l'individuo incentra tutta potremmo dire la sua esistenza della giornata solo a consumare queste determinate sostanze le possiamo chiamare non più cibi mi permetto di usare questo piccolo termine anche perché sono delle vere e proprie droghe per loro come fare quindi perciò in questo grande problema l'equipe che è al pari potremmo definirla appunto come l'equipe che può andare a contrastare di fatti o meglio ad eliminare l'assunzione di droghe per esempio pensiamo all'equipe multidisciplinare che viene fatta per individui che assumono cocaina che paradossamente potrebbe dare gli stessi effetti se ci pensiamo se non che abbiamo del cibo quindi è vero le problematiche sono ben diverse e gli effetti negativi a lungo termine non si vedranno subito se non che come tutti ben sappiamo di fatti l'aumento di peso il sovrappeso e l'obesità che si danno nell'assunzione continua di questo cibo che altri sì non è frutta né verdura ma sono cibi ultraprocessati ipercalorici pensiamo per esempio a panini patatine pizze bibite che sono assunti in quantità enorme parliamo anche di chili di cibo assunti in un breve bellissimo periodo di tempo di qualche ora paio addirittura mezz'ora può succedere questo e a lungo andare difatti sappiamo che l'obesità e il sovrappeso che se ne concerna l'assunzione continua di questi alimenti porta comunque problematiche di peso stesse, di pressione, mancanza di fiato problematiche cardiovascolari per il troppo colesterolo ematico presente in giro insomma non è di per sé un qualcosa di campanello d'allarme come ben si sa nell'obesità al giorno di oggi immediato ma che a lungo andare sicuramente porta invalidità e morte questi individui a tutt'oggi non hanno una cura specifica, gli individui sono così come visti plurimangiatori o pluriassimilatori di cui ve ne parlavo poc'anzi sono assimilati pari merito di fatti come individui prettamente trattati a livello farmacologico con farmaci antidepressivi spesso di fatti questi individui hanno una depressione della propria vita, non riescono a vivere bene e trovano di fatti piacere solo nell'assunzione di cibo di come dicevo poc'anzi la vera problematica però in cosa sta in quest'ultimo sta nell'isolamento completo sono spesso persone che non hanno aiuto a livello familiare e qui partirebbe già un ottimo lavoro d'equipe per il supporto della famiglia a fargli capire le giuste porzioni di cibo da assumere ma fargli capire anche quale cibo assumere ma soprattutto e ahimè questo manca ancora di più è il controllo dell'assunzione parliamo di individui che come già dicevo e citavo assumono chili di cibo e nessuno li può controllare addirittura mix letale se questi individui vivono assieme pensiamo per esempio ai grandi possiamo dire film filmini o video del dottor Nousaradan che vi guarda mentre mangiate i ghiaccioli o i magnum sono individui questi ultimi di fatti che se vivono assieme non è un caso che sono grandi obesi fino ad arrivare a interventi di chirurgia bariatrica attenzione però appunto che chi interviene a livello di chirurgia bariatrica con rimozione sostituzione o bypass gastrico e quindi bypassiamo il passaggio dello stomaco spesso non è risolutiva questa cosa soprattutto nel bendaggio gastrico perché in quel caso abbiamo solo un anello che può essere spezzato se il volume dello stomaco aumenta ancora di più ecco che l'approccio psicologico psichiatrico per questi individui e soprattutto la terapia farmacologica è fondamentale anche perché si sa bene di fatti si sa bene ma non tutto in parte che il trattamento farmacologico che viene fatto negli individui in depressione è facsimile molto a questi come hai già detto ma ancora non si riesce a trovare la soluzione perché di fatti si vede che in questi individui si ha un sballamento di ricapitazione di dopamina serotonina non caso se io spesso ritorno a questi termini ma proprio perché di fatti sono gli stessi termini e passatemi in termine gli stessi neurotrasmettitori che sono anche sì presenti nelle patologie dei disturbi del comportamento alimentare dove non si ha una cura ancora specifica ma il dare l'antidepressivo risolleva quella persona e assieme al lavoro d'equip multidisciplinare che deve essere la base ne rappresenta la fondamentale importanza starà poi al terapeuta quindi al dietologo presente in esse capire quale sia sicuramente da adottare il miglioramento dello stile di vita il miglioramento dello stile di vita sta ad indicare la giusta terapia il giusto cibo nelle giuste quantità il sapersi relazionare a quella persona il seguirla H24 perché sono persone che non devono essere lasciate sole ma soprattutto ancora di più sono persone che devono cambiare stile di vita quindi creare movimento creare deficit calorico se si vuole evitare di arrivare a una chirurgia drastica ma soprattutto soprattutto rimane sempre il perno purtroppo a mio malgrado della troppa accessibilità al cibo ecco che quindi questi individui non vanno lasciati soli spero che questo primo video del salotto del Dr. Beska possa piacere mi trovo letteralmente rilassato nel mio salotto e giro da un iPhone quindi una buona giornata a voi una buona estate perché ancora non è finita mi raccomando mangiate il giusto non abbuffatevi se lo dovete fare fatelo con qualche donna fate sport e al prossimo video TAC 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 TAC